Buongiorno a tutti, il libro di oggi fu pubblicato nel 2016, l'anno della sua prematura scomparsa. Il profeta del gol fu definito, un genio, Johan Cruyff. Scopriamo molto del Cruyff uomo, in questo volume, del Cruyff papà, del Cruyff legatissimo alla famiglia. Rinunciò all'evento a cui tutti i giocatori aspirano, il Mondiale di Calcio, in questa cosa in Argentina nel 1978, perché la sua famiglia, pochi mesi prima, stava per essere sequestrata. Un Cruyff che ancora oggi, anche se non c'è più, purtroppo continua ad aiutare i bambini. Ha creato una fondazione che li porta al suo nome, che li aiuta nell'inserimento nel mondo dello sport. Il racconto poi ha anche le geste sportive, il suo arrivo giovanissimo nell'Ajax, le grandi vittorie, le coppie dei campioni, il trasferimento al Barcellona, che latitava, stentava da alcuni anni, e grazie a lui ritornò ad essere la squadra catalana, una grandissima società. Ma Cruyff non si fermò qui. Credo che sia uno dei casi più rari nella storia dello sport in generale, nel senso che anche da allenatore continuò a mettere i successi, sia all'Ajax, ma soprattutto al Barcellona. Ancora oggi alcuni allenatori si ispirano a lui, primo fra tutti Pep Guardiola, perché ha lasciato veramente un'impronta indelebile nel mondo del calcio, l'ha veramente cambiato. E quindi questo libro perché è bello? Perché riesce a coniugare la dittà sportiva, con tanti aneddoti, ma soprattutto la sua storia, i suoi valori. Ecco perché è un libro che può appassionare anche chi magari non ama lo sport, o comunque non ama il calcio. Sicuramente cambierete parere, dopo averlo letto. Grazie e alla prossima.